Questo servizio è offerto da Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram Buon di fiole, buon di tose o buona sera fiole, buona sera tose Dipende da che ora guarda questo video e buon lunedì Come andiamo? Spero ben Ciao a tutti, io sono Stene, da Treviso, con furore e con Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a Casa Stene Grazie di cuore veramente a tutti e a tutte e nessuno studio Spendo un minuto, però è doveroso farlo Perché il canale sta raggiungendo i 15.500 iscritti E ribadisco, per me questi sono cifroni Anche se qualcuno, qualche invidiosetto Continua a dirmi che non sono numeri da influencer Io non voglio essere l'influencer di nessuno Se poi lo divento, ben venga Io sono qui su YouTube semplicemente Per esprimere pubblicamente la mia passione Ho la fortuna o magari anche la qualità Di poter coinvolgere qualcuno Mi piace tutto questo Lo farei indipendentemente Perché la passione nei confronti del calcio Della Serie C soprattutto E dei miei, chiamiamoli così, video a marcord È insita in me Però con queste cifre Mettersi davanti alla telecamera O andare a spippettare in mezzo alle videocassette Viene fatto il tutto Con uno spirito diverso Con la consapevolezza che comunque C'hai un pubblico C'hai un seguito E ciò è gratificante Ma se erano 100 persone Non mi cambiava nulla Però è chiaro E il tutto veramente è incredibile E quindi non finirò mai di ringraziarvi Perché non mi sarei mai aspettato Che un signor nessuno Come il sottoscritto Potesse raggiungere i 15.500 iscritti Potesse essere invitato a delle trasmissioni E potesse avere la stima Veramente di tante tante persone Quindi virtualmente Vi abbraccio tutti quanti E vi ringrazio Anche perché Già da mo' Sempre per merito vostro Mi hanno sbloccato le storie su YouTube E quindi mi potete seguire tranquillamente lì Dietro di me Grafica nuova Lo stadio di Wembley Abbiamo vinto l'europeo quest'anno Io sto godendo come un riccio Veramente Alla stragrandissima Era 30 anni che aspettavo di poter Gioire Per la conquista di un alloro così importante E visto tra l'altro Perché gli inglesi ci hanno preso a pesci in faccia E tra l'altro Poi se la sono presi in saccoccia Anche dopo le Olimpiadi Il godimento è triplo E quindi questo è un omaggio Al loro rosicamento Se così mi si può Dare questa licenza dialettica Godo 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 E godrò per tutto l'anno Ogni volta che mi vedrò sul video Detto questo Oggi c'è stata la composizione Dei tre gironi della serie C Come ben sapete È avvenuta in maniera orizzontale Non più in quella verticale Ciò anche ha portato a una trasformazione Del mitico gruppo serie Ciat Girone B Che da quest'anno diventerà Serie Ciat Girone A e B Quindi invito tutte le tifoserie Del Girone A e del Girone B A iscriversi sulla nostra community di Facebook Il tutto è stato fatto Proprio perché A fronte di questa novità Non volevamo perdere nessuno per strada Men che meno Tutti i ragazzi e le ragazze Che hanno fatto parte di questa community Proprio nel momento clou della pandemia Ed è nata veramente una grandissima famiglia Virtuale Che poi comunque Si è sviluppata nel tempo Anche al di fuori appunto Della community di serie Ciat E quindi Ci auguriamo Noi amministratori Ovvero il sottoscritto Marco Calerico Morselli Che da quest'anno Con l'aggiunta di nuovi amici ed amiche Il gruppo possa essere Ancor più vasto E ancor più bello Rispetto a prima Dispiace per chi non c'è più Perché i ragazzi di Carpi E di San Benedetto Purtroppo si sono presi Un'ammazzata Sulla testa Non di poco conto Dispiace anche per Gli amici di Caserta Per gli amici di Livorno Per gli amici di Novara Che indipendentemente dal fatto Che non facessero parte Del nostro gruppo Facebook Si vedono privati Della loro squadra del cuore Il tutto A causa di malgestioni A causa Della pandemia A causa di Una serie di circostanze E purtroppo A rimetterci Sono sempre Due categorie Il tifoso E il dipendente Di queste realtà Perché non bisogna Dimenticarsi anche Che c'è gente Che grazie a queste realtà Riesce a mantenere La propria famiglia Adesso Purtroppo Si trovano a spasso So cosa significa Perché al suo tempo Ho vissuto anch'io Una situazione del genere Ti trovi veramente Senza la terra Sotto i piedi Però A loro Veramente rivolgo La mia più grande Solidarietà Il mio più grande In bocca al lupo E Ne verrete fuori Perché Sono cose Che fanno rabbia Sono cose Che Mi devo mordere La lingua Perché se Parlassi Senza un po' Di diplomazia Mi chiuderebbero Il canale Però Veramente Tenete duro E forza E coraggio Detto questo Ritorniamo Alla composizione Dei tre gironi Facendo inoltre Presente Che Questa sera Dalle ore Diciannove In diretta Su RaiSport Ci sarà anche La composizione Vera e propria Dei calendari Giornata Per giornata Andiamo quindi A vedere Nel dettaglio Il tutto Partendo dal Girone A Formato da Albino Leffe Feral Pissalò Fiorenzuola Gianerminio Juventus Sande 23 Lecco Legnago Salus Mantova Padova Piacenza Pergolettese Pro Patria Pro Sesto Pro Vercelli Renate Seregno Su Tirol Trento Triestina E Virtus Becom Verona Che è un girone Abbastanza Importante Equilibrato Nel suo insieme Spiccano Spiccano Tre squadre Padova Triestina E sul Tirol E quindi Secondo me Queste sono le tre Pretendenti principali Al salto di categoria Poi Il campo Sarà il giudice estremo Del torneo Come sempre Interessantissimo Poi sarà Rivedere In Serie C Dopo tanto tempo Il derby tra Su Tirol E Trento Andiamo al girone B Ancona Matelica È una delle novità Di quest'anno Poi abbiamo La Carrerese Cesena La Fermana Grossetto Gubbio Imolese Lucchese Modena Aquila Montevarchi La seconda novità Di quest'anno Olbia Pescara Pontederra Reggiana Siena Teramo Virtus Centella Vispesero E Viterbese C'è una X In riferimento Al fatto che Ci dovrebbe essere La Pistoiese Al posto di questa X Però il Fano Ha fatto ricorso C'è Ci sono tutta una serie Di sfaccettature Da andare a limare Quindi Tanti auguri Al Collegio di Garanzia Che appunto Poi dirimerà A giorni La questione Quindi Si capirà Anzi Si vincerà Chi effettivamente Farà parte Del Girone B Se i Toscani Della Pistoiese O i Marchigiani Del Fano Detto questo Qui ragazzi È Stradifficile Fare un pronostico Visto Tutto l'entusiasmo E conoscendo bene L'ambiente Anche grazie all'amico Enrico Morselli Mi viene da dire Che il Modena Quest'anno È Una delle favorite Però Guardando La caratura Delle rivali Insomma Sarà estremamente Dura Ci metto Il Pescara Che comunque È una Neoretrocessa Dalla serie B Ci metto La Reggiana Idem come sopra Tra l'altro Poi apro Una parentesi Questi calendari Sono stati Molto graditi Dal popolo Granata Colgo l'occasione Per salutare Gabriele Miari E tutti gli amici Della trasmissione Severi ma Giusti Della pagina Facebook FaceRegia 1919 Che ho visto Dai loro post Che sono estremamente Entusiasti Del fatto che Quest'anno Ci sarà La trasferta Di Olbia E penso Che sarà Estremamente Bello Poterla seguire Perché Le premesse Sono appunto Di una grande Felicità Da parte Dei tifosi Dei tifosi Della Reggiana Di poter seguire La propria squadra In Sardegna E stanno poi Con questo discorso Che ci sono i social Questo Eccetera St'altro Penso che insomma Qualche direttina Facebook La faranno Qualcosa di carino Verrà fuori E quindi Comunque Noto che Questo Questa composizione È stata Estremamente gradita Dal popolo Reggiano Ultimo Poi abbiamo Invece Il Girone C E qui Tra l'altro Lo dico Subito Impossibile Fare un pronostico Con corazzate Come Avellino Bari Campobasso Catania Catanzaro Fidelisandria Foggia Juve Stabia Latina Ciare Messina Monopoli Monterosi Tuscia La novità Di quest'anno Paganese Palermo Picerno Potenza Taranto Turris Vibonese Virtus Francavela Anche qui Onestamente Andare a Dire una favorita È come Vincere 6 A Super Enelotto Io Per simpatia Ok E visto anche Il percorso Che ha fatto L'anno scorso Metto Inserisco Tra le favorita E l'Avellino Poi sarà Ripeto Il rettangolo verde Il Il vero e proprio Giudice Del Torneo L'ho detto anche prima Questa cosa Però la ridico Lo stesso Non c'è nessun tipo Di problema Come outsider Vista la grandissima Passione Che c'è In Quella città Che sto per nominare Inserisco il Taranto Dopo tanti anni Ritorna in serie C Ha sfiorato la B È una Realtà Con un entusiasmo Assurdo Incredibile Assurdo Nel senso buono Quindi un grosso In bocca al lupo Ai Tarantini Vedremo Se la squadra Risponderà In campo Rispetto Insomma Al blasone Che appunto La piazza Conserva Da anni Alla passione Che produce Nei confronti Dei calciatori Tarantini Bene ragazzi Io direi Che questa Veloce panoramica È stata fatta E quindi Potrei tranquillamente Concludere Il video Stiamo appunto A vedere Che cosa Accadrà Alle 19 Su Rispost Però penso Che insomma Poco importa Indipendentemente Da tutto Prima o poi Tutte si devono Incontrare L'unica cosa Che mi viene da dire È che Spero Veramente Con tutto cuore Che Finalmente Si possa ritornare Allo stadio A seguire E con passione Le realtà Che più Ci aggradano Spero che Questo covid Venga Arginato In maniera Tale Da non Fermare Nuovamente Tutto L'indotto Indipendentemente Che sia calcistico Anche quello Lavorativo E proprio Della nostra vita Quotidiana E quindi Veramente Con l'augurio Che sia Finalmente Una stagione Normale O pseudo Tale Vi ringrazio Come sempre Della vostra Cortese Attenzione E Mi congedo Dicendove che Ve voglio ben Stemme ben E se vediamo Al prossimo video O alla prossima puntata Di Casa Stene Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti